dottore allora parliamo di dolore alla spalla quando è che un cittadino un paziente deve allarmarsi la patologia della spalla purtroppo è molto frequente quindi può capitare nel corso degli anni di avere un dolore diciamo l'allarme parte quando il dolore diventa non solo acuto e magari nemmeno gestibile con farmaci ma soprattutto persistente e direi per persistente quando è durevole oltre la settimana quello può essere già un piccolo campanello d'allarme in quel caso che cosa bisogna fare il consiglio in quel caso è rivolgersi al medico di base come primo approccio il medico di base valuterà se è il caso poi di approfondire dei primi accertamenti o a seconda della problematica affidarlo a uno specialista quali sono le cause più comune di dolore alla spalla bene il corso della lezione vedrete che ci sono diverse problematiche che possono portare a una patologia soprattutto dei tendini perché è la più frequente e purtroppo interessa una grande fetta della popolazione per fare due grandi distinzioni possiamo dire che quella del giovane è più legata magari ad un gesto sportivo o ad un'attività lavorativa pesante pensiamo soprattutto a pazienti lavoratori che nella lingua anglosassone viene definita overhead ovvero con il braccio sollevato che ripete il gesto ripetutamente quindi pensiamo non so a un imbianchino a un agricoltore che fa potature questo nel giovane nell'anziano purtroppo il dolore può essere spontaneo perché la patologia avviene più per una problematica tipo degenerativo sono delle accortezze che si possono seguire per prevenire queste problematiche diciamo nell'ambito lavorativo il lavorare ad un'altezza che impedisce quell'arco di movimento al di sopra del gesto lavorativo può aiutare il gesto atletico è chiaramente più complesso perché parliamo di atleti agonisti nell'anziano ancora più complesso perché abbiamo detto che è un problema tipo degenerativo quindi legato all'età è parafisiologico diciamo quali sono le terapie che si possono seguire parliamo di terapie che possono essere non chirurgiche quindi incruente e come tali farmacologiche inizialmente può essere un primo approccio sempre associato però a delle indicazioni date dai medici di base a dei trattamenti infiltrativi sempre nelle primissime fasi noi consideriamo un po' come cut off l'eventualità di una chirurgia sempre dopo una curata diagnosi di tipo radiologica e per imaging consideriamo come cut off una tempistica intorno dai tre ai sei mesi fermo l'estante che ci possono essere delle problematiche di tipo traumatiche quindi il paziente magari cade a delle problematiche da affrontare nella maniera più immediata che chiaramente prevedono un trattamento di urgenza grazie a tutti